Cosa ci aspettiamo da Microsoft per i prossimi anni? Speriamo di aspettarci un'azienda che abbia la capacità di entrare in rete più di quanto non ha fatto fino adesso come mi sembra stia cercando di fare presenta nell'evento di oggi nel quale ha invitato persone anche strane al normale ambiente corporate nel quale si svolgono normalmente questi eventi questo significa anche cominciare a utilizzare tutti gli strumenti che riguardano la condivisione della conoscenza che non hanno comunque nulla in contrasto con la normale politica aziendale della vita forse Microsoft rispetto ad altre aziende è rimasta un po' indietro negli anni per quanto riguarda la comprensione di certe dinamiche io credo che piano piano stia recuperando il tempo operato sto seguendo abbastanza attentamente l'entrare di Microsoft nell'ambito web con la strategia Silverlight che se vogliamo è il tentativo di Microsoft di imporre tutta la sua forza per contrastare quello che sta diventando le rich internet application e il web oggi e quindi contrastare direttamente Adobe e la sua prevalenza con Flash questo evento mi incuriosisce proprio a questo motivo capire esattamente qual è la strada che vuole seguire Microsoft e quali siano le novità o gli aspetti interessanti di Silverlight in questo ambito sarà interessante vedere la competizione che questo sarà in grado di mettere sul campo fra Flash e Silverlight per esempio vista dell'interazione almeno qua in Italia con Mclips hanno già iniziato sulla buona strada nel senso che hanno aperto un blog in cui ci sono persone che ci mettono con nome e cognome quindi più trasparenza e più rapporto diretto con la parte attiva della rete sicuramente Microsoft fa molto per aprirsi in Italia si sta provando parecchio in America ci sono vari canali come Channel 8, Channel 9 che appunto cercano di comunicare verso l'esterno sia agli sviluppatori che agli utenti in Italia Microsoft sta cercando in diversi modi di coinvolgere gli utenti, i blogger in particolare io personalmente vorrei vedere Microsoft più negli eventi organizzati da altri che solamente aprire i propri eventi cioè riuscire a mischiarsi anche per esempio nei barcamp facendo uscire i propri sviluppatori facendoli parlare con gli utenti che è sicuramente il modo migliore per arrivare a una comprensione e anche a una condivisione dei propri sforzi io sinceramente credo che sia veramente difficile per un marchio riuscire a cambiare completamente cioè l'idea che è stata fatta di lei da parte del mondo dovrebbe metterci veramente tanto dal punto di vista della comunicazione dal punto di vista anche dei piccoli dettagli aprire i blogger in questo senso non credo abbia una reale utilità se non da un punto di vista comunicativo dire guardate ci siamo aperti ai blogger sono perplesso dovrebbero fare una strategia molto più ampia che semplicemente aprire un evento di blogger peraltro io non sono accreditato a un blogger qui però vabbè serve proprio una campagna o comunque una strategia a 360 gradi agire sui singoli punti è utile ma affino a un certo punto cioè è molto più controproducente soprattutto per quello che è Microsoft Microsoft ha ovviamente delle grandi opportunità in un mondo in cui è leader perché ancora lo è tuttavia oggi ogni volta che fa un'operazione nel nuovo web che non amo chiamare 2.bip beh è sempre un po' complessa cioè l'account è sempre un po' articolato, complicato, devi per Allstars insomma c'è una logica spesso un pochino antiquata dove si tende a tenere l'utente stretto all'interno di recinti almeno questo è quello che appare poi sono certo che dal lato loro invece in realtà hanno tutte le buone intenzioni per evitare questo Grazie a tutti